Salve a tutti ragazzi e rieccoci qui in questo nuovissimo video, sì breve video come vedete dal tempo del video, dalla durata del video perché oggi appunto ne ho caricati due, questo è il secondo perché fino ad ora mi sono messo a lavorare con Photoshop per realizzare le immagini appunto delle ricette per la forgia dell'Atronach quindi in questo video vedrete le varie ricette che si possono creare, quindi i vari oggetti che si possono creare all'interno della forgia dell'Atronach e quindi poi divertirvi nel creare tutti questi oggetti quindi vedrete dalle evocazioni istantanee, dai tomi magici, pergamene, bastoni magici, armature, armi daedriche e anche cose normali come, cioè varie come cuori di daedra, sali del fuoco, sali del vuoto, elisir dell'evocazione e così via quindi spero che vi sia utile questo video e ci vediamo al prossimo video, quindi ciao! 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 Ciao!